Succherimento interessante nell'area avversaria Conclusione deviata dal palo e pallone sul fondo Si dispera Ci sono metri per andare Cerca la soluzione personale Si ripartirà dunque Carica il tiro E il portiere dice di no Cross in area Buono l'intervento del portiere che salva il risultato Qui potevano andare sotto Eh Pierre prendere gol adesso L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche E il pallone finisce in rete Pazzesco hanno trovato il vantaggio a poco dal novantesimo Gara che non finisce di stupirci Non ci credo Pierre hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria Quando nessuno ormai ci credeva più Polizione dalla distanza che esce di un soffio Stava per fare il colpaccio Alla